ciao a tutti ragazzi benvenuti ben ritrovati sul canale di ac milan inside quest'oggi andremo a elaborare un video un po particolare un po personale in quanto vi andrò a raccontare quelli che sono i tre giocatori che mi hanno fatto appassionare colori rossoneri e mi hanno fatto diventare il tifoso che sono oggi prima di iniziare però come al solito vi chiedo di lasciare un like un commento di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che vi porteremo qui su youtube in più in descrizione troverete anche quelli che sono i link per i nostri profili social instagram facebook discord twitter e tanto altro ancora connessi anche al nostro sito ufficiale www.ac milan inside.com prima di entrare nel vivo di questo video ci tengo a precisare una cosa la classifica che vi sto andando ad illustrare quindi questa top 3 di giocatori che mi hanno fatto avvicinare i colori rossoneri è una classifica puramente soggettiva in quanto ognuno ha i propri idoli e ognuno associa il proprio milanismo a determinati giocatori tra l'altro sono anche relativamente piccolo comunque sono un 2001 non ho potuto assistere agli anni d'oro del milan di capello e sacchi il milan ancelottiano me lo ricordo ma a sprazzi quindi mi auguro che nei commenti qui comunque possiate farmi sapere quali sono i vostri tre giocatori più importanti nella storia del milano quelli che vi hanno fatto appassionare di più i colori rossoneri e quelli ai quali ovviamente siete stati più affezionati al terzo posto inserisco sladan ibraimovic una vera e propria leggenda del calcio in generale ovviamente come al solito quando vestiva i colori dell'inter difficilmente mi andava giù come giocatore ma quando nell'estate del 2010 arrivo al milan nella milano rossonera non posso nascondere che mi sono ancora di più affezionato e innamorato di questo giocatore ibra addirittura sto anche leggendo il suo ultimo libro adrenalina che parla di questi aneddoti della sua vita calcistica andando anche a punzecchiare ex compagni attuali compagni nel milan di ibra c'è ben poco da dire 40 anni tuttora uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio europeo l'ultimo gol segnato contro il venezia addirittura è l'ottantesimo gol contro squadre del panorama calcistico europeo numero impressionante poi da quando è tornato al milan non dobbiamo nasconderci ci ha aiutati a tornare in champions ha alzato l'asticella di questa squadra nonostante la sua la sua età ed è riuscito a inculcare ai ragazzi ecco alla rosa la sua mentalità vincente breve se non mi sbaglio a quattro soli gol da pierino prati per entrare nella top 10 dei migliori marcatori nella storia del milan al secondo posto ci inserisco paolo maldini già so che potrei rischiare di prendere una miriade di critiche per quanto riguarda la posizione di di paolo ma c'è da dire che l'ho vissuto poco ho visto ben poco giocare paolo maldini quello che so io di maldini è legato solo ed unicamente ai ricordi di mio padre alle storie ecco che mi raccontava delle partite del suo esordio arrivando alla vittoria della champions di atene del 2007 passando per per barcelona dell 89 di paolo maldini ovviamente da milanista non posso fare altro che essere ammaliato da quella che è stata la sua carriera ovviamente dai 16 anni ai 39 vestire i colori rossoni e poi tornarci da 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 dirigente fa sì che paolo possa essere una leggenda del nostro del nostro club ovviamente come ho detto l'ho vissuto poco l'ho visto giocare veramente poco gli ultimi anni di carriera sono sono comunque stati caratterizzati da vari infortuni che non gli hanno permesso di di giocare in maniera più continua rispetto a quella che è stata la sua carriera in generale però c'è da dire che per quel poco che ho potuto vedere e conoscere paolo sul campo parlando ovviamente che quando lo conoscessi nel privato sarei la persona più fortunata sulla faccia della terra mi ha fatto sì che egli potesse entrare in questa particolare personale classifica però il primo posto è occupato da da un brasiliano da un brasiliano che ha divertito tutti e ha fatto innamorare tutti ci sono tantissimi amici miei che sono milanisti che sono diventati milanisti grazie a lui e sto parlando di riccardo isaacson dos santos leite cata il numero 22 del milan vincitore del paolo del 2007 vincitore della champions league del 2007 vincitore del campionato di serie a nel 2004 col milan arrivò dal sao paolo un ragazzo che secondo storia di carlo ancelotti era un semplice studente universitario che si ritrova lì a milanello per puro caso poi quando ancelotti lo vide giocare per la prima volta lo vide allenare per la prima volta se ne innamorò follemente addirittura lui costa uno dei più forti trequartisti della storia del calcio europeo non appena vide giocare ad allenarsi cacca si rivolse nei confronti di adriano galliani disse questo è più forte di me c'è poco da dire su riccardo arrivato al minan dal sao paolo passato per il real madrid torno al minan per provare a realzare una squadra che già era lo sbando ma la carriera ecco quello che ha fatto cacca per i colori rossoneri non verrà effettivamente mai mai dimenticato ricapitolando quindi questa particolare classifica dei miei cinque giocatori preferiti in la storia del milan sono simon chiera al quinto posto quarto posto alexandre pato slatan ibrahimovic al terzo con maldini al secondo e riccardo cacca al primo ovviamente nei commenti qui sotto fatemi sapere quelli che sono stati i vostri giocatori preferiti facendo anche una classifica di top ten top 5 top 3 come me lo desiderate aspetto le vostre i vostri feed positivi negativi che siano anche inerenti alla mia particolare classifica per il momento è tutto ci vediamo in un prossimo video quindi vi ricordo di attivare la campanellina e di iscrivervi al canale e sempre forza milan